Fa caldo, ma proprio caldo, cioè se gronda o se porta davanti così. Allora, Televignone con uno sponsor Jazz per sempre e vi propone a Colli un metodo per avere un po' di sollievo da una staffa, da sto caldo. E lei è una roba molto semplice. Ve la faccio vedere, direi cos'è che tocca di jazz artificiale, batteria, che mette dentro dove? Nei zaineti, nelle robe, la porta d'altro io, le bibite, che le si tenna fresca. Niente. E chi, chi era la nostra vita, Jazz per sempre, che l'aveva incontro. Perché? Allora, lei è una roba scientifica. Se te ga il caldo, se il corpo sente caldo, come le Coca-Cola, come le Fanta, come le birre, che se le è calde... Allora, osserva il Jazz, è il Jazz che sbassa la temperatura. niente di sconvolgente, eh? Cioè, praticamente, ti sbassa la temperatura. Il Jazz, se ti mette dentro un bicicletto con le Coca-Cola, sbassa la temperatura e ora ti parla di bere qualcosa di più fresco. ma il nostro corpo, il nostro corpo, lei è come la Coca-Cola, come altre robe. Cioè, quando che sta, fa qua, stocca il qua, deve sbassarsi troppo la temperatura. Lei è una scienza questa, eh? Non è vento, miglia e robe. Allora, si tratta di ciappare il Jazz e metterselo adosso. come, dire voi, come? Va un giro con le piastrine lì del Jazz, adesso vi spiegherò. Il Jazz per sempre vuol dire averli adosso questo Jazz. Che for la fa, è 45 gradi. Dite che adosso questo Jazz che ti sbassa la temperatura. È una roba semplice, eh? Cioè, il Jazz sbassa la temperatura. Non che vuole, la scala per, non bisogna mai essere Einstein per capire questa roba. Noi, cos'è che vi fornimmo? Vi fornimmo queste robe che so, le troverete sui mercati, le troverete per tutti, però le fornimmo su misure. Cioè, per chi le grosse, no? Noi, praticamente, vi fermiamo il spessore che vi basta, non so, le basta due millimetri del Jazz, non le fornimmo. Tracchete, e che è addosso, proprio addosso, eh, ah, insomma, ti senti più fresco. Vuoi dire, ma mi avevi la doia, ma mi avevi il mal di tutto, cioè, eh, che freddo, magari addosso già scritto. Non è vera, non è vera, non è vera, non è vera. Perché noi, come vi ho detto, vi fornimmo queste robe giuste, le sue misure giuste, le sue asole, che vedete anche dentro, sotto che mettiamo anche un perfil, c'è qualcosa che, 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 che sta attaccando a pelle, no? E dopo anche le misure, le misure perché sotto chi? Sotto le ascelle, che le robe piccole, le tonde, che, che si attacca su, con i bottonzini, con le sue robe, eh, eh, voler qualcosa sotto il cappell, che vi tegna fresco la testa, non c'è problemi. Cioè, invece che così, fa il tondo. Cioè, fidevi di noi, perché le idee moderne, queste chi, eh? Cioè, le, 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 le loft de Colombo, praticamente, contro il cappell che vuole il freddo. Contro l'affa che vuole il jazz, er, ecco che, 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 questo, vuoi dire, vabbè, ma dopo, dopo un po', non le serve pure, le, le ho, 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 le ho scorte, no? Cioè, le mette nel frigo, un par di ore che, sta roba chi le nada, eh, eh, lo pego e l'altro. Ma non potremmo sempre noi essere qui, quasi appianza la meraviglia da che vedem, le idee giuste, per la stagione giusta. Eh, non so. Cioè, se volete, questa, l'è un'idea contro l'affa. Se non volete, atti il caldo, stegli a raffiare, eh, e leghi la colpa al tempo, e ne avanti, così, continuate, andate così, e la menteve, e la menteve. Già per sempre, guarda, cioè, non è che sei chi a pettinare bambole, a sugar scogli, eh, noi sei chi, per voi. E per darvi una mano contro il caldo che, che sarà ancora, e che non basta andare dentro nei supermercati, nei condizionatori per star meglio. Cioè, la vostra camisota, no? Tra. Con le sue asolette, le sue robe, cosa volete pure la vita? C'ha me, c'ha me, c'ha me. E dopo, non stai dire che te le vignole non la vedrà con su di buoni. Alla prossima! Grazie! Grazie! Grazie.